buonasera bene grazie per essere venuti e allora dopo la lezione di ieri del professor del guerra oggi vi parlerà il dottor daniele panetta dell'istituto di fisiologia clinica del cnr e quindi andando avanti nel nel percorso che è stato delineato ieri questa sarà il primo intervento del dottor panetta ci sarà anche giovedì prossimo solita ora qui sarà giovedì quindi alla prossima settimana e adesso gli lascio la parola grazie grazie professore per per l'introduzione per l'invito è veramente un piacere essere qui in questa bellissima aula tra l'altro la prima volta che ci vengo e quello di cui vi parlo oggi è un settore della ricerca abbastanza vivace in quanto i costruttori di scanner medicali sono costantemente alla ricerca di nuove tecniche software per risolvere problemi noti dell'imaging ne cito alcuni diciamo il miglioramento della qualità dell'immagine o la riduzione della dose al paziente o la correzione di alcuni artefatti oppure anche l'estensione delle tecniche attuali di ricostruzione a geometrie di scansione che non sono considerati del tutto convenzionali e questo è utile ai fini anche dell'estensione delle applicazioni cliniche di queste macchine diciamo che quello di cui vi parlo oggi può essere visto come l'anello successivo nella catena dell'imaging rispetto a quello di cui avete sentito parlare ieri ecco il professor del guerra vi ha parlato diciamo dell'hardware quindi dei meccanismi fisici attraverso cui il dato grezzo viene registrato da una macchina ecco noi i fisici vediamo un po queste macchine come dei laboratori per lo studio dell'interazione radiazione materia ecco naturalmente queste caratteristiche queste proprietà del paziente che sono studiate con queste macchine ovviamente possono essere utili da un punto di vista diagnostico una volta acquisito il dato grezzo questo deve essere elaborato attraverso tecniche software che si basano su principi matematici di cui io vi vado a parlare e tutto questo serve appunto a portare un dato che nella maggior parte dei casi o almeno nelle modalità di cui io mi occupo dal punto di vista di ricerca sono diciamo dei dati in proiezione e attraverso l'uso di queste tecniche si arriva invece a un'immagine tomografica cioè che descrive delle proprietà specifiche del paziente da un punto di vista locale questo tipo di attività è un qualcosa che facevo un po più intensamente fino a qualche anno fa quando militavo al dipartimento di fisica come borsista oggi faccio il ricercatore al cnr all'istituto di fisiologia clinica mi occupo dell'anello della catena dell'imaging che è ancora successivo ovvero quello del cosiddetto imaging quantitativo che cos'è l'imaging quantitativo è tutta quella serie di tecniche software anche in questo caso collegate alla matematica che permettono di estrarre delle informazioni quantitative dalle immagini queste informazioni quantitative hanno o speriamo che abbiano una valenza fisiopatologica e noi ci occupiamo in particolare di quei parametri quantitativi che hanno le caratteristiche di un biomarcatore che cos'è un biomarcatore? è un parametro quantitativo che permette ad esempio di stratificare il rischio di un paziente di incorrere in una qualche malattia o eventualmente di descrivere la gravità della malattia stessa esempio di biomarcatore il colesterolo nel sangue quello è un biomarcatore che però non è un biomarcatore di immagine perché si misura da un campione o da una provetta di sangue con un prelievo venoso un esempio invece di biomarcatore di immagine è la quantità di calcio nelle arterie per esempio questo si misura con la TAC e anche questo parametro è un parametro quantitativo che ha un valore prognostico ben preciso bene una parola sul titolo che ovviamente non è eccezionalmente originale applicazioni mediche della matematica sono ovviamente numerose quando ne parlo mi viene sempre in mente un mio carissimo amico che adesso è ricercatore all'IBM a San Francisco e lui si è occupato per molti anni di modelli matematici per lo studio dell'evoluzione delle epidemie la matematica che salva le vite di cui vi parlo invece oggi e la settimana prossima riguarda più specificamente il problema della ricostruzione tomografica diciamo che siamo nel campo delle applicazioni della geometria integrale e anche dell'analisi armonica più in generale ci occupiamo di un'applicazione di un contesto matematico più ampio che è quello dei problemi inversi quindi io spero diciamo di darvi qualche input ovviamente non ho la pretesa di essere esaustivo questo è un argomento che è molto vasto io ve lo espongo dal punto di vista del fisico cercando di andare a sottolineare quelli che sono gli aspetti più prettamente matematici allora ritorniamo su qualche definizione di base dunque vediamo che differenza c'è tra un'immagine planare non tomografica come quella che vedete qui in alto che è una semplice radiografia e invece un'immagine tomografica questa è una TAC OTC mi ha già parlato il professor Del Guerra ieri qual è la differenza sostanziale? beh diciamo che in questo caso abbiamo un problema di sovrapposizione delle strutture perché questa è un'immagine in proiezione quindi oggetti che si trovano sulla stessa linea di propagazione dei raggi X si trovano ad essere sovrapposti nelle immagini quindi non sempre distinguibili in questo caso invece abbiamo un'immagine che descrive le proprietà locali dell'oggetto entrambe sono state ottenute sfruttando i meccanismi di interazione dei raggi X con il tessuto vivente di cui il paziente è composto ma il grande vantaggio di questo tipo di immagine è che ho eliminato il problema di sovrapposizione delle strutture e questo da un punto di vista proprio di qualità delle immagini lo vedo anche sotto forma di un aumentato contrasto tra i tessuti molli che prima invece non riuscivo a distinguere ecco al di là di questa distinzione operativa tra radiografia e tomografia questa slide nella sua semplicità mi dà l'occasione proprio di diciamo cercare di illustrarvi qual è il significato profondo del fare ricostruzione tomografica qual è la domanda a cui vogliamo rispondere quando facciamo ricostruzione? diciamo che il radiologo quando guarda questa immagine la domanda che si pone è qual è la struttura interna degli organi del paziente tale che sottoposto a un esame radiografico dà questo tipo di immagine? questa è la domanda a cui vogliamo rispondere la risposta è né io né il radiologo lo sappiamo perché infiniti pazienti danno luogo alla stessa immagine quindi c'è un'ambiguità fare ricostruzione significa risolvere questa ambiguità e come la risolviamo? beh la tomografia ci viene in aiuto perché vi è stato detto ieri che per ottenere questa immagine dobbiamo sfruttando gli stessi principi fisici fare tante radiografie prese a tanti angoli attorno al paziente perché dobbiamo fare tante radiografie prese a tanti angoli attorno al paziente? perché questo significa acquisire tante informazioni indipendenti sull'oggetto e quindi restringere il campo delle possibili soluzioni quindi quello che stiamo facendo stiamo cercando di risolvere un problema inverso problema inverso in cui parliamo del problema diretto il problema diretto è se io conosco alla perfezione l'anatomia del paziente conosco i principi fisici su cui si basa la radiografia allora posso prevedere con esattezza quale sarà il risultato di questa misura il problema inverso è il seguente io conosco i principi fisici della radiografia conosco qual è l'immagine voglio sapere qual è l'oggetto che ha prodotto questi risultati quindi questo è il problema che stiamo cercando di risolvere e lo faremo con delle tecniche matematiche ben precise ora molti sanno vi sarà stato anche detto ieri che l'attacca è stata inventata per così dire negli anni settanta l'ingegner Hounsfield ha costruito il primo scanner per la testa e ha preso il Nobel insieme a Cormac che era un fisico sudafricano ma in realtà l'origine dell'attacca è ben precedente in particolare il radiologo genovese Vallebona negli anni trenta aveva già individuato un sistema abbastanza pratico e ovviamente non digitale perché non eravamo ancora qui nell'era dell'imaging digitale per rimuovere o perlomeno attenuare il problema di sovrapposizione delle strutture e quello che ha inventato è quello che fino ancora a qualche anno fa si chiamava stratigrafia su cosa si basava la stratigrafia quindi la cosiddetta tomografia classica beh si basava sul fatto che se noi trasliamo in una direzione il tubo a raggi X e nella direzione opposta il rivelatore di immagini che in questo caso non era un rivelatore digitale lo ricordo ma una pellicola fotografica beh quello che succede è che se andiamo a vedere come si sovrappongono le varie ombre del mio paziente sul piano di rivelazione diciamo che tutti gli oggetti posti su un piano focale vanno a sovrapporsi costruttivamente sempre sulla stessa zona della pellicola fotografica e gli oggetti che invece sono sopra o sotto questo piano si sovrappongono in maniera non coerente non costruttiva e quindi vengono diciamo sfumati in maniera tale che diciamo sono chiaramente presenti nell'immagine ma in maniera da creare un alone ecco ovviamente la qualità non è quella che otteniamo adesso con la moderna tomografia tra l'altro c'è stata un'evoluzione anche digitale di questa tecnica che si chiama tomosintesi digitale è un po' più raffinata e viene in particolare utilizzata nel campo della mammografia quasi tutti i mammografi moderni hanno la possibilità di ruotando in un piccolo arco il tubo raggi X di andare a come dire localizzare la formazione dell'immagine su un piano focale più o meno spesso ecco tra l'altro qui vediamo anche che da qualche anno a Genova è stata intitolata una via ad Alessandro Vallebona ora si vi accorgerete che il baricentro della mia discussione sarà spostato sull'ATAC perché è quello di cui io mi occupo come ricercatore anche da un punto di vista di sviluppatore di tecnologia alcune delle simulazioni del software che vi mostrerò sono stati scritti da me nell'ambito di collaborazione con l'industria però è giusto andare a chiudere il quadro di quali sono tutte le tecniche tomografiche distinguiamo tre principali famiglie abbiamo le tomografie in trasmissione appunto quella a raggi X la TAC ne è un esempio in questo caso la sorgente di radiazione è posta all'esterno del paziente e il sistema di rivelazione è posto dal lato opposto abbiamo anche una tomografia in emissione in questo caso la sorgente di radiazione che andiamo a rivelare è posta dentro il paziente stesso come può essere posta dentro il paziente? beh, nel caso per esempio della PET o dell'ASPECT precedentemente allo svolgimento dell'esame stesso viene iniettata una sostanza radioattiva che si ridistribuisce negli organi in funzione sia della cinetica di distribuzione del tracciante stesso e anche delle condizioni di salute del paziente e in realtà questo avviene anche per l'esame di risonanza magnetica nucleare o sarebbe più corretto dire imaging di risonanza magnetica in cui anche in questo caso la sorgente di radiazione è il paziente stesso in quanto successivamente ha un'eccitazione con delle radiofrequenze il corpo risponde con delle radiofrequenze che hanno una frequenza portante uguale a quella di eccitazione e quello che andiamo a fare è proprio captare, registrare queste radiazioni con delle bobine che sono simili a delle antenne esiste anche una tomografia in riflessione in questo caso la sorgente e il rivelatore si trovano dallo stesso lato dell'oggetto o nella maggior parte dei casi coincidono con lo stesso apparecchio esempio tipico è quello dell'ecografo, dell'ultrasonografia come funziona l'ecografia? ho una sonda, questa sonda emette degli impulsi a ultrasuoni questi vengono riflessi sulle superfici che separano zone a più alta e più bassa impedenza acustica e la stessa sonda registra l'impulso riflesso dopo un certo tempo non vi parlerò di formazione dell'immagine in questo caso perché si basa su principi abbastanza diversi da quelli di cui invece vi vado a parlare qui la formazione dell'immagine si fa andando a misurare un tempo di riflessione però è anche corretto che io vi dica che esiste un imaging anche a ultrasuoni in trasmissione ovvero esistono delle varianti per la verità non molto utilizzate in clinica in cui la sorgente di ultrasuoni è posta da un lato del paziente e un rivelatore è posto dall'altro lato quindi vado a misurare così come nell'attac a raggi X l'intensità degli ultrasuoni trasmessi diciamo che questa diapositiva potrebbe far pensare che tutte le tecniche a raggi X sono in trasmissione tutte le tecniche a raggi gamma sono in emissione in realtà non è così esistono anche delle tecniche a raggi X in emissione mi viene in mente per esempio l'imaging di fluorescenza a raggi X la fluorescenza a raggi X come funziona? diciamo che io così come nel caso della risonanza magnetica vado a eccitare gli atomi del corpo con una certa radiazione che deve avere necessariamente un'energia superiore a quella degli elettroni dell'orbitale più interno degli atomi che vado a stimolare quindi dell'orbitale K e gli atomi alla loro volta rispondono con raggi X di fluorescenza e io vado a rivelare questi raggi X di fluorescenza per creare un'immagine così come anche i raggi gamma che generalmente sono utilizzati nell'imaging in emissione possono essere utilizzati in alcuni casi per fare l'imaging in trasmissione un esempio è quello della gammagrafia industriale l'imaging in campo industriale è come dire si basa sugli stessi principi dell'imaging in campo medico ma spesso le sorgenti devono essere calibrate per visualizzare oggetti che hanno densità un po' diverse un conto è attraversare 30 cm di acqua del corpo di un paziente un conto è attraversare magari 10 cm di acciaio di un tubo che deve essere ispezionato per qualche motivo per queste ultime applicazioni quindi si usano sorgenti gamma con energie di emissione molto più elevate e quindi fasci più penetranti qualche esempio di imaging visto che vi ho parlato di imaging quantitativo faccio una carrellata è giusto per vedere a cosa può servire l'una o l'altra metodica naturalmente questa è una lista ultra corta non basta certo una diapositiva per descrivere tutte le applicazioni mediche delle modalità di imaging partiamo dalla TAC tanto per cambiare ecco questo è un esempio di applicazione morfologica della TAC questa è una modalità che nasce ed è famosa per lo più per la sua capacità di rilevare l'anatomia del paziente quindi per fare studi morfologici in questo caso è utilizzata per fare l'angiografia dell'albero coronarico del cuore vedete qui una ricostruzione tridimensionale del cuore e tra l'altro questa è una tecnica abbastanza complessa perché richiede la sincronizzazione del processo di acquisizione con il segnale ECG del cuore perché questo? diciamo fare l'imaging del cuore è una cosa abbastanza complicata in quanto è un organo in movimento veloce involontario e sebbene le moderne macchine TC abbiano dei tempi di rotazione che sono dell'ordine di 0,3 secondi per rotazione questa velocità non è ancora sufficiente per congelare il movimento del cuore in maniera tale da creare un'immagine che sia diagnosticamente utile quindi la sincronizzazione con il segnale ECG, il cosiddetto gating, è necessario tra l'altro qualcuno avrà notato che le immagini sono abbastanza diverse da quelle che vi ho mostrato prima perché è un'immagine che sembra per l'appunto tridimensionale non è una fetta come si crea un'immagine tridimensionale? beh, lo vedremo nel prossimo incontro in cui proverò a darvi una dimostrazione di tecniche di post-processing nella fattispecie di ricostruzione tridimensionale di fatto quello che andiamo a fare è comporre tutto lo stack come si dice in inglese, cioè la serie di fette andando ad assegnare ad ogni pixel un certo valore di opacità e poi applicando dei principi fisici di ray tracing si dice, cioè di riflessione della luce su materiali assegnati ad hoc a questi pixel in maniera tale da creare un oggetto tridimensionale così come lo possiamo vedere noi nella realtà ora dicevo la TAC è nota per la morfologia ma forse si sa meno che si usa anche per fare imaging funzionale questo è un esempio in cui un mezzo di contrasto viene iniettato e l'acquisizione viene fatta molte volte nel tempo questo permette di andare a misurare in maniera dinamica la curva temporale di distribuzione del mezzo di contrasto nel corpo e l'applicazione di questo, almeno in questo caso è quello di valutare l'aggressività del tumore in quanto attraverso lo studio di queste curve dinamiche è possibile valutare in modo quantitativo qual è il grado di vascolarizzazione dei tessuti noi sappiamo che tumori più aggressivi sono maggiormente vascolarizzati in quanto i processi di neangiogenesi sono tali da richiedere costante nutrimento ai tessuti neoformati e quindi poter applicare queste tecniche che ci dà un'informazione in più rispetto al vedere unicamente la dimensione del tumore stesso è anche vero che nell'imaging funzionale la fanno da padrone le tecniche nucleari quindi basate sull'emissione di raggi gamma quindi sull'uso di radionuclidi questo è un esempio in campo cardiaco che tra l'altro è il focus dell'istituto in cui lavoro qui la rappresentazione è forse un po' atipica qui stiamo guardando il ventricolo sinistro del cuore come lo stiamo guardando? lo stiamo guardando attraverso una cosiddetta mappa polare cioè a dire i cardiologi e i medici nucleari si sono inventati negli anni una rappresentazione bidimensionale di un oggetto tridimensionale che è il ventricolo che lo possiamo un po' immaginare come un mezzo sferoide prolato se noi prendiamo questo mezzo sferoide prolato e lo apriamo in questo modo e lo schiacciamo sul piano dello schermo allora abbiamo la possibilità di rappresentare su ciascun settore quello che sta succedendo in ciascuno dei segmenti del cuore stesso non so se riesco a farvelo capire provate a immaginare di vedere il cuore dall'atrio verso l'apice del ventricolo e di aprirlo in questo modo questo è quello che state guardando in ognuno di queste mappe polari qui abbiamo un'applicazione un po' particolare di una micro TAC e cos'è la micro TAC? è la versione ad altissima risoluzione della TAC si basa sugli stessi principi ma permette di raggiungere risoluzioni spaziali di ordini di grandezza superiori rispetto a quella della TAC convenzionale a causa delle sue caratteristiche non può essere utilizzata direttamente sul paziente ma viene utilizzata proprio come uno strumento da laboratorio per fare una specie di microscopia tridimensionali di campioni che possono essere reperti chirurgici, biopsie che in questo caso vengono caratterizzate con un grado di definizione ovviamente molto superiore rispetto a quello che si può fare in vivo in questo caso faccio vedere la caratterizzazione di una placca aterosclerotica questo si fa generalmente anche con la microscopia ottica attraverso l'analisi di vetrini istologici però quella è una metodica bidimensionale in questo caso invece possiamo valutare la morfologia in tre dimensioni ultrasuoni naturalmente applicazione classica che ci viene sempre in mente quella ostetrica qui invece faccio vedere la valutazione quantitativa dello spessore di una carotide anche questo è un biomarcatore il spessimento della parete della carotide è un segnale d'allarme risonanza magnetica anche in questo caso ci viene subito in mente il cervello qui faccio vedere uno studio quantitativo del cuore vedete questo è il cuore in sezione a destra abbiamo il ventricolo sinistro a sinistra abbiamo il ventricolo destro i medici sono bravissimi a confonderci le idee ma d'altronde loro guardano il paziente di fronte quindi è tutto invertito è giusto anche che sia così e qui abbiamo la valutazione quantitativa dell'output del cuore cioè a dire quanto sangue il cuore riesce a pompare la valutazione di queste curve ha un valore prognostico molto elevato e per concludere la PET l'applicazione come dire forse più diffusa della PET è quella della valutazione del metabolismo del glucosio in quanto uno dei traccianti radioattivi più utilizzati è il fluoro deossi glucosio marcato con fluoro 18 che fondamentalmente è un analogo del glucosio quindi viene riconosciuto come tale dalle cellule vi accennavo al fatto che esistono anche delle applicazioni non medicali, non biologiche di alcune modalità di imaging io mi occupo di TAC e micro TAC ve ne faccio vedere alcune beh, l'applicazione archeologica, antropologica è effettivamente una delle più utilizzate questa è l'immagine di un dente di 40.000 anni fa che tra l'altro è stata acquisita e ottenuta nel mio laboratorio e si tratta di un incisivo deciduo di Homo sapiens trovato in uno scavo archeologico in Liguria che è cronologicamente assegnato ai Neandertal attraverso la micro TAC siamo riusciti a studiare lo spessore dello smalto dentale e l'analisi di questo smalto dentale che è diagnostica per la distinzione delle specie ci ha permesso di dire che è un sapiens in quanto i Neandertal hanno uno spessore dello smalto significativamente inferiore se paragonato al volume del dente stesso l'esito dello studio è stato che se abbiamo trovato un dente di Homo sapiens in uno scavo cronologicamente assegnato ai Neandertal evidentemente questi due signori si sono incontrati e uno dei due ha vinto e noi sappiamo come è andato a finire sicurezza ovviamente ognuno di noi è stato in aeroporto e si è dovuto sottoporre al calvario del mettere i propri bagagli su un nastro trasportatore in alcuni casi questo viene fatto anche con delle tecniche tomografiche generalmente al check-in sono dei nastri trasportatori che fanno un'imaging di tipo puramente bidimensionale è per quello che ci chiedono di togliere le chiavi dalle valigie di togliere comunque degli oggetti che potrebbero creare una specie di diciamo falsare il contenuto informativo delle immagini e laddove si usano delle tecniche tomografiche lo sforzo è quello di poter distinguere i materiali in modo particolare quello di poter distinguere gli esplosivi da materiali invece più innocui ahimè l'acqua e gli esplosivi spesso rientrano all'interno della stessa finestra di visualizzazione e non possono essere distinti dalle immagini TAC ecco perché in aeroporto ci chiedono di togliere i liquidi e poi ci sono tutta un'altra serie di applicazioni su cui non vi annoio troppo geologia misure industriali ingegneria inversa cioè è possibile mettere un oggetto costruito dentro una macchina TAC e ottenere il progetto computerizzato che mi permette poi di ricopiarlo ispezione dei cibi industria del legno eccetera eccetera ok diciamo dopo questa carrellata io vorrei iniziare a introdurvi qualche concetto un po' più formale dunque questi strumenti che sono molto potenti devono poter essere caratterizzati in qualche modo cioè dobbiamo trovare un modello che ci permetta di descriverne il funzionamento per farvi un po' capire a cosa serve questo tipo di lavoro diciamo questo quello che generalmente fa il medico quando utilizza queste strumentazioni è partire da un'ipotesi cioè conosco il funzionamento dello strumento e conosco le sue prestazioni e con questo strumento che io conosco vado a studiare un paziente che invece non conosco e del quale devo capire che cosa sta succedendo noi fisici facciamo esattamente il lavoro opposto siccome le prestazioni di questi strumenti possono cambiare nel tempo e la legge ci obbliga a monitorarlo con dei controlli di qualità periodici allora dobbiamo fare questo cioè prendere degli oggetti che conosciamo alla perfezione perché sono stati costruiti in laboratorio e andare a studiarli con questi strumenti dei quali invece accettiamo di saperne meno e studiare la risposta delle macchine su questi oggetti che conosciamo attraverso questo meccanismo riusciamo a misurare delle caratteristiche di performance dello strumento e per poter quantificare queste performance abbiamo bisogno di un po' di formalismo e parte di questo formalismo rientra in quella che è la teoria dei sistemi lineari perché teoria dei sistemi lineari perché diciamo questi strumenti di imaging possono essere trattati sotto certe approssimazioni come appunto degli operatori lineari dal punto di vista del formalismo matematico quindi riprendiamo in mano qualche definizione operativa definiamo un sistema lineare lo definiamo come una scatola nera che possiamo indicare con l'operatore S in questa scatola nera se diamo un segnale di input che chiamiamo F che può essere una funzione nel dominio del tempo o un vettore o quello che ci piace e otterremo in output un segnale G l'operatore S è detto lineare se soddisfa a queste condizioni vale a dire se l'output di una combinazione lineare di input corrisponde a una combinazione lineare dei singoli output con gli stessi coefficienti questa è la definizione di linearità non vi dico nulla di nuovo esempio operatore media di segnali allora lo possiamo definire in questo modo abbiamo due segnali di input F1 ed F2 la media di F1 in questo caso è 3 la media di F2 in questo caso è 8 quindi la somma delle medie è 11 se proviamo a sommare i segnali che cosa succede che la media delle somme è uguale alla somma delle medie quindi di questo operatore lineare torniamo all'imaging prendiamo in esame magari un sistema di imaging che tutti noi abbiamo per le mani quindi proviamo a vedere che cosa succede quando questo giovane tutto allegro perché appena ha comprato il cellulare nuovo prova a fare delle fotografie degli oggetti di suo interesse come facciamo a dire se questo operatore di imaging è lineare o non è lineare beh proviamo a immaginare che cosa succede se lui riprende un oggetto che può essere descritto da un'intensità luminosa diciamo f allora la risposta del cellulare della fotocamera a questo oggetto f diciamo che è un'immagine che chiamiamo g se noi raddoppiamo l'intensità luminosa dell'oggetto che andiamo a riprendere l'operatore è lineare la fotocamera si comporta linearmente se anche l'immagine avrà un'intensità doppia rispetto all'immagine che avevamo ottenuto prima quindi in questo caso se la fotocamera si comporta così allora vuol dire che è lineare ora nel mondo reale la cosa che dobbiamo accettare è che alcuni dispositivi si comportano in modo lineare in alcune occasioni e si comportano in modo non più lineare in altre per esempio avete mai provato a fare una fotografia del sole con il cellulare se ci provate scoprirete che questa proporzionalità di risposta non è più mantenuta diciamo che ho superato il cosiddetto range dinamico del mio strumento e quindi sono andato come si dice a saturazione quindi proporzionalità non è più mantenuta se io moltiplico il segnale di input con una n che è molto maggiore di 1 intanto per parlare di fotografie del sole faccio vedere un'immagine questo mi permette anche di introdurre il concetto di histogramma di un'immagine digitale chi ha esperienza pratica di programmi di image processing come possono essere photoshop o altri avrà già dimestichezza con questi histogrammi si tratta nient'altro che dell'istrogramma di frequenza dei valori che sono rappresentati digitalmente in queste immagini siccome questa è un'immagine a colori voi sapete che le immagini a colori sono tipicamente codificate in tre canali rosso verde e blu la combinazione di questi canali dà l'immagine anche su altri colori e quello che qui vediamo la saturazione come si va a poi misurare nell'istogramma cioè vediamo che alcuni pixel vorrebbero andare oltre il range dinamico della nostra immagine in questo caso 255 perché ogni canale è rappresentato con 8 bit quindi può essere soltanto codificati con numeri che vanno da 0 a 2 alla 8 meno 1 nell'imaging medicale tipicamente abbiamo immagine a un canale con una profondità di bit che è tipicamente di 16 quindi numeri interi che vanno da 0 a 2 alla 16 meno 1 65 535 esempio di immagine buona e di immagine cattiva ecco questo strumento dell'istogramma ci permette anche proprio di andare a valutare tecnicamente la qualità dell'immagine qui in alto abbiamo un istogramma abbastanza ben bilanciato su tutti i canali e qui in basso forse volutamente c'è una saturazione dico forse volutamente perché ci sono diciamo degli effetti secondari ecco magari si capisce meno l'età del soggetto non lo so ora come caratterizziamo un sistema lineare vale a dire come possiamo prevedere la forma dell'output dato un certo input bene la caratteristica della linearità di questi operatori ci permette di fare una cosa molto semplice cioè dare in ingresso al nostro sistema un segnale di tipo impulsivo che in matematica è convenientemente descritto dalla funzione generalizzata delta di Dirac e andare a studiare l'output di questo segnale impulsivo quello che otteniamo quando diamo in ingresso qui un impulso è una funzione non necessariamente impulsiva che chiamiamo però risposta all'impulso del sistema la risposta all'impulso del sistema ci dice quasi tutto sul nostro sistema perché perché in virtù del principio di sovrapposizione lineare se sappiamo come risponde la macchina a un impulso sappiamo anche come risponde la macchina a una combinazione lineare di impulsi e qualsiasi segnale reale ci venga in mente può essere di fatto espresso come una sovrapposizione lineare di impulsi quindi questo è espresso attraverso l'operazione matematica della convoluzione quindi conoscere la risposta impulsiva che qui abbiamo indicato con H ci permette di prevedere il risultato dell'output di qualsiasi F semplicemente come convoluzione tra F e H se H non cambia nel tempo il sistema si dice stazionario nei sistemi che invece lavorano con segnali con più di una dimensione ci dobbiamo anche preoccupare della dipendenza dalla posizione della H quindi noi andiamo a occuparci per semplicità soltanto di quei sistemi in cui la H è uniforme in tutto lo spazio ed è costante nel tempo esempi di convoluzione non ve ne sto neanche a parlare questo mi facilita semplicemente in altri contesti il fatto di poter dire che la delta di Dirac è l'elemento identico rispetto all'operazione di convoluzione se ho invece un impulso che è un po' più largo l'operazione di convoluzione mi va a creare un risultato che è conseguentemente più largo perché tutto questo mi serve nel campo dell'imaging beh allora cominciamo a dare un po' di nomi a quello che a noi serve allora nel contesto dell'imaging il nostro segnale d'ingresso è una funzione che dipende dalla posizione nello spazio e dal tempo per esempio nel caso della TAC questa funzione è la distribuzione spaziale delle densità all'interno del corpo dico densità e non dico coefficiente di attenuazione lineare che in realtà è la vera grandezza che andiamo a misurare però è una funzione complessa della densità per semplicità dirò densità nella maggior parte dei casi trascurro la dipendenza dal tempo in realtà anche questa funzione dipende dal tempo in quanto il corpo si può muovere in quanto possiamo essere iniettati con mezzi di contrasto la cui distribuzione non è costante del tempo supponiamo per il momento di lavorare con dei sistemi che operano su degli intervalli temporali tali che questa distribuzione può essere considerata costante in output otteniamo un'altra funzione sempre dipendente dalle variabili spaziali e temporali e questa è quella che chiamiamo immagine la cosa molto importante da un punto di vista concettuale è sempre ricordarsi che la f cioè la funzione oggetto è la reale distribuzione che noi vorremmo andare a conoscere quando facciamo un esame di imaging che è un qualche cosa di ignoto è la verità è quello che noi vogliamo andare a stimare nella maniera più precisa possibile il risultato dell'operazione di imaging è dato da una misura sperimentale e non può che essere un'approssimazione quindi è importante capire la differenza tra l'oggetto e l'immagine naturalmente il significato fisico di questa funzione cambia a seconda della modalità che stiamo considerando ecco nel caso degli esami medico nucleari si tratta di una concentrazione di attività quindi si esprime come beccarelle su ml o beccarelle su metro cubo nel caso dell'attacco l'abbiamo detto è il coefficiente mu diciamo che è qualche cosa che dipende dalla densità e dal numero atomico in funzione della posizione nel caso della risonanza magnetica è un po' più complicato perché quello che andiamo a studiare è una funzione complessa di questi tempi di rilassamento t1, t2, t2 star è della densità di protoni mentre nel caso dell'ecografia è la riflettività delle onde acustiche anche nel caso dell'imaging andiamo a dare un nome molto specifico alla cosiddetta risposta impulsiva cioè a come risponde il sistema ad una delta di dirac in questo caso tridimensionale nel contesto delle immagini la risposta alla delta si chiama point spread function cioè funzione di allargamento del punto e il nome allargamento del punto già richiama un qualcosa che se io ho un oggetto puntiforme in ingresso in uscita avrò un qualche cosa che è un po' più largo di un punto e questo fatto è fortemente legato alle caratteristiche di risoluzione spaziale dello strumento vale a dire se io riuscissi a creare un oggetto di una dimensione di che ne so un nanometro in tutte e tre le dimensioni e voglio provare a studiarlo dentro la macchina in uscita avrò un'immagine che sarà non più stretta di dipende dallo strumento vogliamo dire un millimetro questo significa che se ho due oggetti puntiformi nello strumento che sono posti a distanza più piccola rispetto a quella della larghezza di questa PSF io non riuscirò a distinguerli nell'immagine e quella è una definizione operativa di risoluzione spaziale quello che ci importa è che qualsiasi sia la F noi possiamo modellizzare la risposta dello strumento di imaging come una convoluzione tra l'oggetto lo stesso è la PSF più ahimè rumore questo non ce lo toglie nessuno perché tutte le misure fisiche sono soggette a rumore sperimentale più ho aggiunto un'altra cosa artefatti cosa sono questi artefatti beh sono un disturbo nelle immagini che non sono né rumore né blurring da risoluzione spaziale e che sono specificamente dovuti alla natura malposta del problema inverso di ricostruzione cioè al fatto che continua sempre ad esserci un'ambiguità tra l'oggetto che stiamo che cerchiamo di ricostruire e i dati a nostra disposizione e questo è il concetto che esprimevo prima di risoluzione spaziale andiamo un po' avanti e soltanto per farvi capire da un punto di vista poi sperimentale come si misura questa PSF beh nel caso della TAC questo è uno strumento nel nostro laboratorio prendo un oggetto molto molto piccolo in questo caso si tratta di un filo di oro di 20 micron di diametro lo metto nella macchina faccio un'acquisizione e vado a studiare la larghezza dell'immagine diciamo della macchia che viene creata quando vado a ricostruire questo oggetto in questo caso ho una larghezza che è intorno ai 120-130 micron quindi sono partito da un oggetto di 20 micron che è visibile dallo strumento ma la risoluzione spaziale è 130 micron vuol dire che se metto due fili a distanza di che ne so 50 micron l'uno dall'altro io li vedrò come un'unica macchia cioè non riesco a distinguerli definizioni operative rivelabilità è la dimensione più piccola del singolo oggetto che riesco a vedere dimensione del voxel cos'è il voxel l'elemento di immagine tridimensionale dipende soltanto da come è stato impostato il sistema di ricostruzione quindi è fondamentalmente il passo di campionamento delle mie immagini risoluzione spaziale è quello che vi ho appena detto esempi di artefatti nel caso della TAC abbiamo un artefatto che è dovuto alla natura diciamo policromatica della radiazione che andiamo a utilizzare siccome la teoria della ricostruzione è basata invece sull'ipotesi che questa radiazione sia monocromatica tutte le discrepanze che ci sono tra il modello ideale che vado a utilizzare e invece i dati reali si traduce nelle immagini con una forma di un qualche artefatto ad esempio qui si vede molto chiaramente lo dicevo prima noi cerchiamo di studiare oggetti che conosciamo alla perfezione questo è un cilindro d'acqua quindi riempito in maniera uniforme se vado a studiare la densità con una macchina TAC quello che mi aspetto di vedere è un oggetto completamente uniforme se però invece vado a vedere che cosa succede ho una distribuzione di densità ricostruite che vorrebbe far credere che la densità al centro è inferiore rispetto alla densità ai bordi e questo è banalmente un artefatto ovviamente ci sono delle tecniche di correzione di questi artefatti ma è un qualche cosa che proprio dipende da questa differenza tra modello che sto utilizzando e natura dei dati a mia disposizione in questo caso invece sono degli artefatti di ricostruzione di immagine PET qui non ho contrasto si dovrebbe vedere un background ma ahimè non è riprodotto dallo schermo diciamo questo alone non dovrebbe esserci ed è un effetto dell'assenza della cosiddetta correzione di attenuazione non mi soffermo troppo come vi dicevo da dove vengono questi artefatti il problema è che la ricostruzione da dati reali è un problema inverso mal posto a causa del rumore a causa di limitazioni fisiche dello strumento di disallineamenti quindi c'è un'ambiguità fondamentalmente che non può essere risolta parlando di ambiguità non potevo che mostrarvi queste sono le famose tavole di Rorschach tipicamente il terapista dice al paziente cosa ci vedi tu io ci vedo un pipistrello io ci vedo qualcos'altro cioè c'è ambiguità e questa invece è una bellissima tavola di Escher fondamentalmente più di un oggetto è compatibile con i dati disponibili e questa è la natura profonda di questi artefatti di ricostruzione qui andiamo a definire in maniera un po' più formale che cos'è un problema inverso e in particolar modo che cos'è un problema inverso mal posto quando provo a spiegarlo a degli studenti non fisici o non matematici l'esempio classico che faccio di problema inverso è il seguente allora partiamo dal problema diretto diciamo che abbiamo due numeri 3 e 5 problema diretto calcolare la media di questi due numeri è facile è 4 problema inverso ho un numero 4 volete dirmi quali sono due numeri tali che la loro media sia 4 questo è il problema inverso soluzione non c'è o sono infinite in realtà in questo caso sono infinite e come si risolve questa ambiguità diciamo quello che si può fare è porre dei vincoli ad esempio possiamo porre il vincolo che la somma dei due numeri non sia superiore a una certa soglia quindi fare una limitazione dell'energia come si dice quindi per avere un po' di definizione diciamo che se x è una serie di parametri di un certo modello e m è il cosiddetto operatore di misura indichiamo anche con y i dati ottenuti cioè come risultato della misura stesso allora il problema diretto è applicare l'operatore m ai dati x ottenendo un dato y vale a dire noto il modello fisico di misura e i parametri allora possiamo predire il risultato della misura stessa problema inverso noto il modello fisico della misura e i risultati della misura stessa vorremmo sapere quali sono i parametri che abbiamo dato in ingresso al nostro sistema problema inverso è ben posto secondo Adamard se uno esiste una soluzione due la soluzione è unica e tre la soluzione è stabile nel senso che piccoli cambiamenti nei dati provocano piccoli cambiamenti nelle soluzioni la maggior parte dei problemi inversi nell'imaging sono malposti cioè non soddisfano tutte e tre queste soluzioni contemporaneamente quindi esiste più di una forma di paziente compatibile con i dati a nostra disposizione le tecniche di ricostruzione ci permettono di trovare una di queste possibili soluzioni ora prima di passare ad un esempio pratico di ricostruzione permettetemi di richiamare un attimo alcuni fondamentali sulla TAC non perdo troppo tempo quindi dicevo un esame di imaging in trasmissione di raggi X vedete questo è quello che si vede se noi proviamo a togliere la cover da uno scanner abbiamo su questo gantry rotante una sorgente di raggi X un tubo quindi che emette radiazione che attraversa il paziente e la radiazione trasmessa viene rivelata da questo banco di rivelatori e tutto avviene a vari angoli facendo ruotare questo sistema su un gantry alcune particolarità quello che andiamo a ricostruire cioè la grandezza fisica che vogliamo ottenere è il cosiddetto coefficiente di attenuazione lineare alcuni parametri rappresentativi i tubi e raggi X nella clinica lavorano con dei voltaggi che vanno da 80 a 140 kV e la dose al paziente aumenta come il quadrato di questo kV quindi come il quadrato dell'energia media dei fotoni che sto inviando e aumenta anche linearmente con quella che è la corrente del filamento che si trova qua dentro cioè con il numero di fotoni che io sto inviando al paziente alcuni parametri che poi possono essere variati durante la scansione stessa sono la lunghezza di scansione per esempio il pitch dell'elica voi sapete che dagli anni 90 esiste una modalità di scansione nella TAC che non è semplicemente assiale ecco perché è scorretto parlare di TAC ma bisognerebbe parlare di TC in quanto l'esame può essere sia assiale che elicoidale esame elicoidale significa che il letto del paziente trasla contemporaneamente alla rotazione del gentry e quindi dal sistema di riferimento del paziente stesso la sorgente effettua una traiettoria di tipo elicoidale questo mi permette di fare esami volumetrici in tempi molto ridotti e uno dei parametri che regolano questa scansione è proprio il passo dell'elica vale a dire quanto si è spostato il letto del paziente in una rotazione di 360 gradi e ovviamente un altro parametro è quello della quantità del mezzo di contrasto come si producono e come si rivelano i raggi X ve l'ho già detto del guerra ieri richiamo un po' questi concetti fondamentalmente si tratta di produrre degli elettroni che vengono accelerati nel vuoto e vengono fatti scontrare a grande velocità contro un bersaglio di metallo pesante perché qui faccio vedere il televisorino perché credo molti di voi sappiano che fondamentalmente queste televisioni a tubo catodico erano di fatto dei piccoli generatori di raggi X la sicurezza di chi osservava stava proprio nello spessore dello strato di vetro posto davanti al televisore stesso però quando le nostre mamme ci dicevano non ti attaccare troppo allo schermo del televisore in realtà facevano bene perché una piccola quantità di raggi X comunque riusciva a penetrare questo strato di vetro questa è la tipica forma di uno spettro di raggi X ottenuto da un tubo usato in clinica vedete sull'asse delle X ci sta l'energia dei fotoni e sull'asse delle Y ci sta l'intensità cioè il numero relativo di fotoni emessi per quella energia nel caso ideale quello che mi piacerebbe avere è un picco ad una certa energia da me scelta e zero dappertutto questa tipologia monocromatica è quella che il modello di ricostruzione più utilizzato vorrebbe ma ahimè questo non è possibile a livello di come dire singolo ospedale o di laboratorio di ricerca esistono delle sorgenti di raggi X che hanno queste caratteristiche spettrali si chiamano sincrotroni sono degli apparecchi molto molto grandi e ce ne sono diciamo pochi nel mondo e vengono utilizzati per scopi di ricerca come funziona invece l'attenuazione dei raggi X cioè la interazione attraverso cui questi raggi X vengono attenuati dal nostro corpo è importante che il nostro corpo non sia completamente trasparente alla radiazione se fosse completamente trasparente noi non vedremmo assolutamente nulla motivo per cui non si può fare per esempio la radiografia con i neutrini che ci attraversano in maniera costante senza che noi ce ne accorgiamo e senza che essi rilascino alcuna energia nel nostro corpo i raggi X invece sono tali che il nostro corpo è semi trasparente adesso è questo che ci permette di distinguere tessuti più densi da tessuti meno densi la cosa più importante è che la legge con cui questa attenuazione può essere descritta è una legge di tipo esponenziale ovvero non ho in teoria per nessuno spessore l'annullamento totale della radiazione ma ho soltanto una diminuzione di tipo esponenziale in funzione dello spessore attraversato per un determinato materiale quindi andiamo a fare un esempio di come possiamo ricostruire un'immagine diciamo in sezione partendo dalle proiezioni radiografiche ottenute in uno scanner ipotetico TAC uno scanner che in questo caso per motivi di semplicità descrivo come abile a solo ricostruire matrici molto molto piccole in questo caso due per due ecco proviamo a immaginare un sistema molto semplice in cui l'immagine che voglio ottenere è molto molto piccola costituita soltanto da 4 pixel allora questi 4 pixel compongono questa matrice che cosa succede da un punto di vista fisico quando vado a fare un'acquisizione TAC beh io sto acquisendo gli integrali di linea di questo oggetto cioè sto andando a fare una proiezione delle caratteristiche di attenuazione dell'oggetto lungo linee di volo che sono definite dalla geometria del sistema stesso quando faccio una singola radiografia parto da un certo angolo e ottengo le proiezioni su quella direzione quando invece faccio la TAC ho anche la possibilità di ruotare e andare a acquisire altre proiezioni dell'oggetto su altre direzioni ora se vado a vedere come è fatto questo semplice sistema di acquisizione vedo che per ogni direzione che io qui ho disegnato ho in uscita un dato sperimentale che è l'intensità dei raggi X attenuati questa intensità dei raggi X attenuati in virtù della legge che vi ho fatto vedere prima cioè questa è correlabile alla somma delle densità che si trovano lungo la linea di volo quindi quello che posso fare per ricostruire questo semplice oggetto che io ignoro è quello di andare a comporre i risultati di questa acquisizione in una forma diciamo vettoriale quello che voglio creare è un sistema di equazioni lineari che mi leghi i risultati della misura sperimentale con le incognite del mio sistema che sono i valori di densità di questi singoli pixel allora se vado a vedere che cosa succede diciamo che su questa linea di volo io ho una misura P che è uguale a che cosa a mu1 più mu2 cioè densità del primo pixel più densità del secondo pixel qui c'è anche un fattore delta X che è lo spessore del pixel stesso quando vado a considerare la linea di volo P2 ottengo invece una misura diversa che è quella della somma di mu3 e di mu4 ok la terza misura che faccio è questa qui in diagonale che è data da che cosa mu1 più mu4 per uno spessore un po' diverso perché radice di 2 per delta X sono inclinato di 45 gradi e poi ho l'ultima che è questa in verticale la P4 che è data dalla somma di mu2 e mu4 se vado a mettere questo sistema di equazioni lineari in cui la incognita sono le 4 mu e lo sprimo in forma matriciale posso riscrivere tutta questa procedura in questa forma un po' più compatta e questo è esattamente il problema diretto quindi ho formalizzato l'acquisizione tomografica come un sistema di equazioni lineari come faccio a fare ricostruzione devo invertire questo sistema ora in questo caso è tutto molto molto semplice in quanto la matrice è piccola ed è non singolare quindi il determinante è diverso da zero le equazioni sono tutte linearmente indipendenti quindi è molto facile invertirla e quindi una volta fatto il calcolo riesco a capire quali erano i valori dei singoli pixel il problema è il seguente che questo è un esempio estremamente semplificato di quello che invece avviene nella realtà nella realtà le matrici con cui vado a lavorare sono di centinaia di migliaia per centinaia di migliaia e i coefficienti di queste matrici sono quasi tutti zero sono matrici cosiddette sparse quindi sono matrici tra l'altro neanche quadrate sono non invertibili per cui la soluzione del nostro problema di ricostruzione non può essere ottenuta in questo semplice modo ci dobbiamo inventare in qualche altra maniera per trovare un surrogato dell'inversa di questa matrice di sistema ovvero una pseudinversa che risponda a certe caratteristiche ora quello di cui vi ho parlato è un esempio di una delle due grandi famiglie di tecniche di ricostruzione tomografica ovvero quella dei metodi cosiddetti iterativi perché iterativi perché io ho appena accennato al fatto che queste matrici di sistema non possono essere invertite in maniera analitica quindi vengono utilizzate delle tecniche iterative per trovare una soluzione buona nel senso dei minimi quadrati quindi il problema si formalizza così come io ho appena fatto vedere tipicamente si tratta di calcoli che sono dal punto di vista computazionale abbastanza intensi ma insomma con i moderni mezzi di calcolo non è più un problema come lo poteva essere una volta è un esempio di queste tecniche iterative è il metodo la tecnica di ricostruzione algebrica che vi andrò a far vedere fra poco oltre a queste tecniche iterative però ci sono anche dei metodi cosiddetti analitici in questa seconda famiglia l'impostazione del problema è completamente diversa nell'esempio che vi ho fatto prima il problema veniva impostato in maniera discreta fin dall'inizio cioè io ho immaginato che l'oggetto fosse rappresentabile con una serie di pixel nel caso invece della ricostruzione analitica l'approssimazione che faccio è che l'oggetto che sto cercando di ricostruire sia una funzione continua e che i dati ottenuti attraverso una procedura di scansione reale siano modellizzabili come una qualche trasformata integrale dell'oggetto stesso questa trasformata integrale è la trasformata di Radon la definiremo la prossima volta quindi in questo caso la ricostruzione consiste trovare un'inversione di queste trasformate integrali e solo successivamente discretizzare il problema e trovare una soluzione quindi discreta che può essere calcolata al computer il problema principale di queste tecniche è che il modello fisico su cui si basano è estremamente semplificato e quindi la quantità di dettagli indesiderati nell'immagine è tanto maggiore quanto maggiore è la discrepanza dei dati reali rispetto al caso ideale quindi lavorano bene su dati di buona qualità tipicamente i dati di buona qualità sono quelli che si possono ottenere con una macchina TAC con le macchine invece di medicina nucleare e di PET i dati sono di inferiore qualità in quanto minore è il numero di fotoni che io riesco ad acquisire quindi anche la statistica di conteggio è inferiore e quindi in questo secondo caso si preferisce utilizzare tecniche di questo tipo quindi andiamo in attesa di fare un break dovrebbe esserci fra poco credo un caffè che serve a tutti introduciamo quindi qualche formalismo in maniera un po' più generale quindi qui non abbiamo più una matrice due per due prendiamo un caso un po' più realistico in cui ho un'immagine che è costituita da n pixel questi n pixel sono attraversati da m cosiddetti tubi di flusso cioè direzioni in cui io vado a integrare le proprietà dell'oggetto il problema diretto dell'acquisizione può essere impostato in maniera molto simile a quello che avevo fatto prima cioè per un singolo tubo di flusso il risultato della misura è dato dalla somma della densità all'interno del singolo pixel moltiplicata per un coefficiente che è dato dall'intersezione cioè lunghezza di intersezione tra la direzione stessa il raggio stesso e il pixel tutto questo può essere impostato così come prima con un sistema di equazioni lineari quello che cambia è la dimensione della matrice cioè il numero dei coefficienti di questa matrice quello che cerchiamo è una pseudo inversa come dicevo prima cioè una soluzione tale che la differenza tra l'applicazione della matrice A alla F e i dati a mia disposizione sia la più piccola possibile cioè se io non posso invertire A devo trovare la maniera di cercare in questo spazio vettoriale n dimensionale delle possibili soluzioni il vettore cioè la combinazione di valori di pixel che minimizza questo errore e questo è qualcosa che posso sempre calcolare in quanto la A la conosco perché conosco le caratteristiche fisiche e geometriche del sistema stesso e quindi posso sempre calcolare il prodotto di A per F i P sono i dati a mia disposizione io devo trovare la soluzione cioè l'argomento di F che minimizza questo errore dove questa può essere banalmente una norma euclidea ok facciamo una piccola pausa stiamo cercando di ricostruire un oggetto ignoto rappresentato sotto forma di una matrice quindi una sequenza ordinata di pixel ognuno dei quali è caratterizzato da una certa densità ripeto dico densità solo per motivi di semplicità i dati a nostra disposizione sono delle somme pesate di queste densità lungo particolari direzioni lungo particolari direzioni che sono quelle definite dalla geometria del mio sistema di scansione il problema posto in questi termini risulta compatibile con quello di risolvere un sistema di equazioni lineari in n incognite e m equazioni n ed m sono in tutti i casi pratici numeri diversi quindi le matrici non sono quadrate tipicamente si tende a prediligere una sovradeterminazione del sistema si utilizzano sistemi sovradeterminati in quanto la sovradeterminazione può andare a compensare un po' quelli che sono gli effetti di incertezza dovuti alla presenza del rumore sperimentale e poi perché di fatto esistono delle tecniche iterative per la ricerca di pseudosoluzioni comunque soluzioni compatibili con diciamo la ricerca di una matrice pseudinversa nel caso di sistemi sovradeterminati quindi quello che dobbiamo fare è fondamentalmente andare a trovare una f in uno spazio vettoriale n dimensionale che sia ottimo nel senso della minimizzazione di questo errore e allora come si fa? si fa andando a provare varie f in questa equazione questa equazione la posso sempre utilizzare c'è un calcolo che posso sempre fare in quanto la a la conosco perché è una caratteristica intrinseca del sistema di acquisizione che è sempre lo stesso non dipende dal paziente dipende da come è costruito lo scanner la p ce l'ho perché è il risultato della misura sperimentale nel caso dell'attack è la misura che consiste nella rilevazione dell'intensità di raggi x alla fine di ciascuna linea di propagazione la f non la conosco e devo adottare delle procedure iterative iterative cioè provare tante f fino a quando questo argomento cioè questa norma non diventa piccola piccola quanto piccola compatibilmente con le necessità del di fare diagnosi con quell'immagine e purtroppo questo è un qualche cosa di assolutamente arbitrario quanto è piccolo un errore piccolo è piccolo abbastanza per i miei scopi ecco perché le tecniche iterative in realtà hanno fatto più fatica ad affermarsi in ambito clinico in quanto c'è questa diciamo soggettività sul numero di iterazioni che io devo fare prima di fermarmi se ne parlava prima con qualcuno di voi dico che hanno fatto fatica ad affermarsi ma è bene anche che io ricordi per motivi storici che queste tecniche di ricostruzione sono state impiegate nella prima TAC quella degli anni 70 di Hounsfield che non utilizzava tecniche analitiche ma utilizzava proprio tecniche iterative ora vi faccio vedere anche una diapositiva su questo però diciamo l'accento è posto sul fatto che io devo trovare un sistema per cercare in maniera intelligente in tutto il possibile spazio vettoriale n dimensionale delle soluzioni quello che hanno in comune tutte queste ricerche iterative di soluzioni sono tre punti uno un punto di partenza cioè ho bisogno di trovare un punto di partenza cioè una F iniziale un qualche punto nello spazio vettoriale da cui iniziare la ricerca nella letteratura anglosassone si chiama initial guess test iniziale la prova iniziale due di una condizione di avanzamento dell'iterazione cioè partendo dall'initial guess in che direzione mi devo muovere in questo enorme spazio dimensionale dove devo andare a cercare la soluzione tre una condizione di stop che tipicamente è diciamo l'entità del massimo errore che mi posso permettere di fare quando vado a confrontare i dati sperimentali a mia disposizione con il risultato dell'applicazione della mia soluzione di test con la matrice del sistema ora queste diciamo questi tre ingredienti cambiano a seconda della tecnica utilizzata ce ne sono diverse in realtà volevo spostare l'accento sul fatto che le tecniche di ricerca del minimo quindi le tecniche cosiddette di ottimizzazione non sono appannaggio unico dell'imaging ci sono tantissimi campi della scienza in cui la stima di parametri si basa sulla minimizzazione di una funzione costo alcune tecniche che mi fa piacere ricordarvi sono per esempio le tecniche che seguono il gradiente di una certa funzione costo cioè se noi andiamo a vedere come è fatta questa funzione errore in uno spazio n dimensionale vediamo che quello che stiamo andando a cercare è fondamentalmente una buca un minimo di potenziale se mi permettete un esempio dalla fisica cercare un minimo di potenziale cioè una buca è un qualche cosa che può essere fatto partendo da un punto qualunque e cercando muovendosi nella direzione opposta al gradiente di quella funzione ora il problema è che calcolare un gradiente di una funzione in n dimensioni mi comporta il dover fare tanti calcoli lavorando in termini discreti per poter calcolare il gradiente mi servono almeno due punti per ogni dimensione quindi se sono in m uguale un milione mi servono almeno due milioni di punti e questo da un punto di vista del calcolo è effettivamente abbastanza complesso perché ognuno di questi punti mi comporta il passaggio da una operazione di questo tipo che è computazionalmente anche abbastanza complessa ecco perché le tecniche di ricerca del gradiente forse non sono ottimali nel campo dell'imaging e beh questa è una possibile soluzione che poi è quella utilizzata da Hounsfield nella sua macchina e quello che possiamo fare per cercare una possibile soluzione di un sistema sovradeterminato è quello di utilizzare il cosiddetto metodo di Cac-Marts che poi è la generalizzazione di un altro algoritmo un po' più famoso l'interpretazione geometrica è abbastanza semplice proviamo a immaginare dal punto di vista geometrico come può essere fatta la soluzione di un sistema di equazioni lineare beh allora diciamo se ognuna di queste equazioni può essere descritta geometricamente come un iperpiano in RN allora la soluzione del sistema di equazioni è il punto di intersezione se esiste di tutti gli iperpiani che sono descritti dalle nostre equazioni se il sistema è sovradeterminato non c'è sicuramente un unico punto di intersezioni però ci sarà c'è sicuramente una zona di questo iperspazio in cui più o meno gli iperpiani si concentrano mi rendo conto che è un qualche cosa effettivamente di molto arbitrario di molto soggettivo ma è lì che andiamo a cercare la nostra soluzione ok e come si fa dal punto di vista operativo beh il metodo consiste fondamentalmente nell'andare a proiettare ciascuna delle soluzioni intermedie successivamente e iterativamente su tutti gli iperpiani proviamo a vedere come funziona questo in un caso molto semplice quindi qui siamo in R2 per cui stiamo lavorando con un'immagine di due pixel più semplice di così non si può e il disegno corrisponde a una situazione in cui abbiamo tre misure integrali del nostro oggetto composto da due pixel qui come vedete non c'è una soluzione però applicando questo sistema prima o poi le iterazioni si fermeranno e cominceranno a ricircolare all'interno di questa zona del piano come funziona scelgo un initial guess una soluzione iniziale di prova in modo totalmente arbitrario scelgo uno degli iperpiani in questo caso quindi una retta su cui proiettare la soluzione e poi iterativamente dal punto di intersezione quindi da questo punto qui vado a cercare la proiezione su un'altra delle rette e poi da lì di nuovo sulla terza e poi ricomincio da capo si può dimostrare che questo sistema converge verso una zona dello spazio che è quella in cui si concentrano maggiormente queste rette questo è il sistema utilizzato da Hounsfield negli anni 70 qui vedete l'applicazione a un oggetto test molto utilizzato nel campo della tomografia questo è il cosiddetto fantoccio di Shep Logan vorrebbe riprodurre la sezione di una testa umana in maniera estremamente semplificata vedete qui ho due ricostruzioni eseguite con un numero diverso di iterazioni qui già la prima iterazione è un buon risultato se faccio il confronto con l'immagine con l'oggetto chiedo scusa con l'oggetto reale vedete che ho un po' di differenza quindi qualcosa che è diverso da zero soltanto in corrispondenza dei bordi se faccio due iterazioni già questa differenza comincia a svanire a quante iterazioni mi devo fermare ahimè questo è un qualche cosa di abbastanza arbitrario e deve essere valutato caso per caso sul protocollo specifico in campo di medicina nucleare ormai queste tecniche iterative si sono fortemente affermate per cui non è più un tabù dal punto di vista clinico accettare il fatto che ci si può fermare dopo un certo numero di iterazioni e questo numero di iterazioni tipicamente viene valutato in fase di controlli di qualità e ottimizzazione dei protocolli è un qualche cosa in cui anche noi fisici dobbiamo dare una mano per la definizione dei protocolli ecco dicevo questo è un sistema che è stato utilizzato quindi l'ho presentato per prima proprio anche per motivi storici qui vedete Hounsfield che viene insegnito del premio Nobel nel 1979 per l'invenzione di questo strumento e qui vedete ricostruita la primissima immagine di una sezione del cervello con questo Amy Head Scanner qualcuno avrà notato anche che ci ho messo i Beatles è un errore no in realtà qualcuno saprà che la TAC è la più grande eredità dei Beatles alla scienza non per niente si chiamava Amy Scanner la Amy era la casa discografica dei Beatles che a quei tempi oltre che avere grossi introiti dalle vendite dei dischi aveva anche una sezione dedicata all'ingegneria all'elettronica e quindi aveva anche un po' di fondi da investire in nuove idee scientifiche e questo ha permesso ad Hounsfield di costruire il primo tomografo la cui idea è stata sviluppata lo dico indipendentemente anche dal fisico sudafricano Cormac con il quale quindi poi il premio Nobel è stato condiviso l'immagine in questione è ricostruita su una matrice di 80 pixel per 80 pixel quindi siamo a n uguale 6400 se uno va a vedere l'articolo originale di Hounsfield scopre che ciascun fascio forma complessivamente una serie di 28800 equazioni simultane quindi un sistema abbondantemente sovradeterminato nella complessità io ho acquisito integrali di linea di questa matrice 80 per 80 su 28800 direzioni diverse e la ricostruzione è stata fatta esattamente con il metodo che vi ho mostrato prima questo scanner se qualcuno capita a Londra è esposto al museo della scienza di South Kensington molto interessante tra l'altro è anche utile dire che il primo scanner invece a corpo intero ha una tecnologia abbastanza diversa in quanto per motivi proprio fisici legati al range dinamico di questi rivelatori questa macchina è fatta in maniera tale che la testa del paziente è infilata in una sacca di acqua racchiusa da una parete di plastica perché serviva una sacca di acqua perché se questa sacca di acqua non ci fosse la differenza di intensità di radiazione misurata al di fuori della testa del paziente rispetto all'intensità misurata al centro della testa del paziente sarebbe troppo diversa e quindi da un punto di vista fisico questo creerebbe una saturazione del range dinamico dei detector i detector attuali hanno dei range dinamici che sono assolutamente incomparabili rispetto a quelli utilizzati da Hounsfield in questo esperimento il primo scanner a corpo intero invece è dovuto a un americano Robert Ledley che ha modificato questo meccanismo della sacca d'acqua compensando il problema della variazione di intensità di radiazione con dei filtri di alluminio sagomati posti davanti alla sorgente di raggi X tra le tecniche iterative ce ne sono alcune molto utili soprattutto in campo di imaging nucleare dove ci scontriamo con il problema che i dati sono veramente molto 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 rumorosi e sono molto rumorosi in quanto il numero di fotoni che riusciamo a collezionare su ciascuna linea di volo è ordini di grandezza più basso rispetto a quello che invece riusciamo a ottenere con una macchina a raggi X che dal punto di vista dell'affluenza quindi dell'intensità di radiazione è un cannone rispetto invece alla quantità di radiazione di raggi gamma che escono dal nostro corpo in uno studio in emissione in questo contesto quindi risulta più utile riformulare il problema della ricostruzione assegnando un significato abbastanza diverso a ciascun elemento della matrice del sistema in questo caso quello che faccio vedere è che in uno studio in emissione quello che stiamo cercando di capire è non più quanta attenuazione quindi quanto assorbimento dei raggi X avviene lungo una certa direzione ma stiamo cercando di capire quanti dei fotoni che poi vengono rilevati su una certa linea di propagazione sono stati emessi da un elemento di volume all'interno di questa matrice in poche parole quello che stiamo cercando di capire è qual è la probabilità che un fotone gamma emesso da un pixel jesimo sia rivelato sulla linea di proiezione iesima quindi in questo contesto la matrice di sistema acquista un significato ben diverso e diventa fondamentalmente una matrice di probabilità siccome il processo fisico di conteggio dei fotoni su ciascuno degli elementi di rivelazione di questo sistema segue la statistica di Poisson io posso calcolare questa probabilità andando a fare le produttorie delle probabilità di rivelare i fotoni emessi da ciascuno di questi pixel scrivendo così una cosiddetta funzione di verosimiglianza che nel senso bayesiano acquista questo significato cioè qual è la probabilità che una certa distribuzione di attività all'interno di questa matrice sia compatibile con le misure sperimentali che io sto osservando ora una volta scritta questa funzione di verosimiglianza quello che posso fare per cercare una soluzione è di andare a massimizzarla e questo è un algoritmo quello della massima verosimiglianza anche usato in altri campi fondamentalmente si tratta di passare alla log verosimiglianza quindi questa produttoria diventa una sommatoria e la soluzione si cerca facendo per l'appunto studiando rispetto a P il massimo di questa distribuzione quello che viene fuori è una formula di iterazione per F che prende il nome di maximum likelihood expectation maximization è una formula assolutamente importantissima nel campo della medicina nucleare è un altro modo di muoversi nello spazio vettoriale delle soluzioni che è diverso da quello precedente in quanto dovreste notare che questa è una formula iterativa di tipo moltiplicativo invece questa che avevamo prima è una formula iterativa di tipo additivo che cosa mi cambia a me nella pratica avere una formula moltiplicativa una formula additiva beh diciamo che se ho una formula additiva posso scegliere la soluzione iniziale come mi pare se ho una formula moltiplicativa il campo si restringe perché se per esempio parto dalla soluzione nulla rimango a zero per tutte le iterazioni e questo è un dettaglio pratico andiamo a vedere dal punto di vista algoritmico diciamo un po' più visto come schema a blocchi come funziona questa ricostruzione iterativa beh allora cos'è che devo fare nella pratica torniamo al discorso di prima cioè devo confrontare i dati sperimentali a mia disposizione con che cosa il risultato di una certa soluzione test applicata all'operatore che è descritto dalla matrice del sistema quindi parto dai dati a mia disposizione che sono questi questi oggetti molto strani li introdurremo la prossima volta sono i cosiddetti sinogrammi del sistema che sono la rappresentazione grafica dei dati di proiezione a mia disposizione che cosa devo fare beh per ciascuna iterazione n quindi per ciascuna soluzione test questa soluzione deve essere proiettata ovvero applicata a questa matrice di probabilità h ottenendo così che cosa ottenendo una proiezione artificiale questa proiezione artificiale viene confrontata con la p cioè con i dati a mia disposizione dal confronto tra i dati reali e i dati artificiali ottenuti dalla soluzione di prova io ottengo un fattore di correzione che viene applicato alla trasposta questa volta della matrice di sistema ottenendo così un fattore di correzione per l'immagine e quindi andando al prossimo step nella procedura iterativa quello che vedete nella pratica è che in funzione delle iterazioni ottengo delle immagini che sono via via più definite quindi via via si migliora il grado di dettaglio che io ottengo in queste immagini superata una certa iterazione il dettaglio rimane quello che è e aumenta soltanto il rumore quindi prima o poi ci si deve fermare e evitare di amplificare il rumore nelle immagini bene ovviamente vi dicevo è una carrellata molto molto rapida io adesso invece vorrei aprire il discorso delle tecniche analitiche ma è meglio poi approfondire questo la prossima volta quindi mi fermerei qui e lascerei a voi lo spazio per delle domande l'unica cosa che vi dico soltanto per aprire come dire questo argomento è che adesso cominciamo a formalizzare il problema della ricostruzione in maniera completamente diversa cioè partiamo da uno spazio continuo e immaginiamo il nostro oggetto come una funzione continua in R2 o in R3 questo matematico Radon ha trovato la soluzione in Rn e tanto per parlare di cose che quando si fanno non si sa mai che utilità possono avere è bene ricordare che la soluzione al problema del ricostruire una funzione attraverso i suoi integrali in Rn è stata trovata nel 1917 ecco ovviamente molto molto tempo prima che esistessero dei computer che poi avrebbero permesso di utilizzare queste cose nella pratica ma direi data anche la complessità dell'argomento di spostare questa discussione al nostro prossimo incontro e quindi mi fermerei qui grazie 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 se c'è qualche domanda io lascio il microfono a qualcuno di voi che è un'altra parte che è un'altra parte è un'altra parte scusi è una curiosità quando ci ha fatto l'esempio prima con i due pixel quello semplice e poi dopo ci ha fatto vedere un esempio cioè volevo semplicemente no ancora prima ecco qua qui e poi dopo anche l'esempio successivo io volevo chiedere in fondo l'oggetto è lui no in queste tecniche iterative si inseriscono le condizioni tipo che deve essere invariante per rotazione e quindi in definitiva costituisce una semplificazione forse cioè per arrivare a minimizzare ecco si pongono sicuramente dei vincoli al campo delle soluzioni questi vincoli solitamente si applicano sotto forma dei termini di penalizzazione vale a dire che poi la funzione costo viene volutamente peggiorata laddove la soluzione vada a spingersi verso possibili soluzioni irrealistiche questa penalizzazione è di fatto una delle possibili tecniche che si usano per regolarizzare il problema credo sia acceso forse sono troppo lontano io va bene allora se non ci sono altre domande continuiamo giovedì prossimo prevedo un'oretta un'oretta e un quarto di diciamo lezione chiamiamola così teorica frontale per poi passare a una dimostrazione più o meno pratica di quelli che sono gli aspetti invece più legati all'imaging quantitativo e all'estrazione di parametri numerici dell'immagine soprattutto nel contesto delle immagini tridimensionali in tac o micro tac vedremo adesso cosa mettere al fuoco cercherò di trovare qualcosa che possa stimolare magari il vostro interesse la vostra curiosità grazie grazie